Musica Buongiorno e benvenuti all'appuntamento di giovedì 25 luglio in regia Gianfrancesco Iacaruso. Prima edizione del TG che apriamo parlando di sanità e liste di attesa. L'azienda sanitaria lavora per accorciare i tempi per esami e visite ma spesso ci sono difficoltà per contattare al telefono i cittadini. L'azienda sanitaria ha per questo diffuso alcune informazioni e numeri utili. Ce li dice in questo servizio Enzo Luongo. Nel giorno del via libera della Camera al decreto sulla lista d'attesa, decreto che prevede tra l'altro l'istituzione di una piattaforma nazionale per monitorare i tempi di erogazione delle prestazioni, l'ASREM interviene sulla situazione molisana. Quotidianamente negli ultimi anni sono finiti in cronaca casi eclatanti in regione, anche un anno di attesa per un esame. Ora l'azienda sanitaria regionale sta provando a invertire la rotta e ridurre i tempi d'attesa. La direzione strategica della sede di via Ugo Petrella a Campobasso, affermano i vertici dell'ASREM, sta puntando su azioni mirate. Infatti, in virtù delle disponibilità, gli utenti con prenotazioni fino al prossimo 31 dicembre, quotidianamente continuano a ricevere chiamate per anticipare esami e visite. L'azienda sanitaria ricorda a tal proposito che il numero dal quale vengono effettuate queste chiamate è il seguente, 0875 75 2601. Una precisazione dovuta al fatto che spesso chi riceve chiamate da numeri che non ha tra i propri contatti, non risponde pensando all'insistenza di un qualsiasi call center. Proprio qualora il cittadino non dovesse rispondere, l'azienda sanitaria fa sapere che può richiamare ad un altro contatto, 0875 75 2620, valutando con l'operatore la possibilità di effettuare in anticipo la prestazione. Al fine di rendere il servizio ancora più efficace ed efficiente, conclude l'ASREM, l'azienda sanitaria ha anche predisposto un servizio di SMS. L'utente che è stato contattato dal call center e che non ha risposto al telefono e che non ha neanche richiamato, verrà comunque raggiunto da un messaggio con le indicazioni del caso e la richiesta di rivolgersi ad uno specifico numero telefonico. E cambiamo argomento, domani a Yelzi la festa del grano. Alla fine degli anni 40 del secolo scorso, Giuseppe Folchi riprese la sfilata e ne realizzò un documentario che oggi ha un valore storico. Nel 1948 ne realizzò anche uno sui misteri che tanto colpì il suo amico Pietro Germi, il grande regista. La figlia di Giuseppe Folchi, Silvana, ricorda quei lavori e gli anni in cui casa sua a Campobasso era frequentata dai padri del neorealismo, amici stretti di suo padre. Sentiamo la testimonianza raccolta da Tonino Danese in uno straccio di una lunga intervista realizzata nella nostra trasmissione Viaggio in Molise. Vediamo. I grandi del cinema italiano, alcuni tra i padri del neorealismo, negli anni 40 e 50 del secolo scorso frequentavano Campobasso, la casa di Giuseppe Folchi. Molisano nato a Fossalto nel 1911 e vissuto nel capoluogo facendo la spola con Roma. Erano suoi stretti amici dai tempi dei cine club. Con loro collaborò, da loro imparò, sempre schivo e umile. Per questi maestri del cinema fu imprescindibile aiuto, ne apprezzavano la professionalità e anche loro appresero tanto da lui, non solo in termini professionali, ma soprattutto umani, come ricorda Silvana Folchi, sua figlia, che da giovinetta si ritrovava in casa, questi giganti della settima arte. Se dei Santi, se me lo ricordo, poi venne a Campobasso, ero proprio piccola piccola, ma venne con Germi, con Ponte Corvo, perché poi quando tornava dopo 15 giorni portava immancabilmente poi gente e quindi venivano da noi, abbiamo conosciuto tante di quelle persone. E mi ricordo che Germi venne in occasione dei misteri, perché aveva visto nel 1948, aveva fatto questo filmato dei misteri, allora è la prima volta che riuscivano dopo la guerra, e venne Pietro Germi. E disse, ma veramente, avevi ragione, questa è una cosa proprio bella da rivedere. Altra grande amica di Giuseppe Folchi fu Lina Wertmüller, più volte venuta a Campobasso da Silvana. Folchi purtroppo è morto a soli 51 anni nel 1962. Artista poliedrico, regista, fotografo, pittore, insegnante Giuseppe Folchi, realizzò anche documentari sul suo molise apprezzati in tutta Italia, come appunto quello famoso dei misteri del 1948. Che poi faceva parte di una raccolta di, mi pare, visioni molisane questa, che c'erano visioni molisane, tradizioni molisane, il molise, che poi non abbiamo ritrovato tutto, il molise, e poi vabbè c'erano piccoli apostoli, e poi c'erano qualche altro che a noi è sfuggito. Domani è il 26 luglio, festa di Sant'Anna a Ielsi, la festa del grano, con la sfilata delle traglie e dei carri, che sono vere e proprie opere d'arte, di chicchie e spighe, lavorate da mani esperte. E Folchi, alla fine degli anni 40 del 1900, riprese con arte e maestria anche questa sfilata, di cui la figlia Silvana conserva il documentario in bianco e nero, così carico di semplicità, di quelle emozioni che i ricordi di un tempo passato riescono a suscitare. Praticamente un paese intero si è potuto rivedere dopo tanto tempo, perché in effetti, certo, era la festa del grano di allora. Lo fece alla fine, appare pure lui girandosi proprio alla fine della scena, sì sì. La sfilata dei carri, i bambini che si erano fatti alla comunione quell'anno e che quindi andavano dietro questi carri, il lavoro della campagna, è bello, sì sì, fu proprio bello. E con la prima edizione del Tg ci fermiamo, adesso uno sguardo come sempre ai quotidiani locali nazionali. Iniziamo come sempre dal web e dal giornale del Molise, l'apertura è questa, il Consiglio regionale passa il secondo sottosegretario di Baggio, che vedete qui nella foto, verso la nomina. Le altre notizie, andiamo a vedere, quella in evidenza, liste di attesa, l'azienda sanitaria dice prosegue il lavoro per smaltirle. Ecco i numeri telefonici utili, avete visto anche il servizio di Enzo Luongo. Morto dell'acqua, uno dei più importanti stuntman italiani, era nato a Campobasso. Si parla anche del sovraffollamento delle carceri in Molise, le maggiori criticità sono a Campobasso. Torna Cammina Molise dal 2 agosto, la trentesima edizione. Ancora sulla sanità, liste di attesa, bandiera nera al Molise. Queste alcune delle notizie di oggi sul giornale del Molise. Intanto adesso ci spostiamo nella sezione editoriali. Vi segnalo questo editoriale dal titolo Radici, di Giuseppe Pisani, che è un appassionato di ricerche sui borghi, ed è in sostanza un commento sulla nostalgia della propria terra da parte dei molisani e di poeti e artisti, lo vedete qui nella sezione editoriali. Dal giornale del Molise passiamo adesso a futuro Molise. In evidenza questa notizia che riguarda l'edizione 2024 di Cammina Molise, la trentesima edizione a Campobasso, la presentazione dell'evento. A Termoli, capitale molisana del turismo, con una stazione da scale mobili. Questo termine, questo è messo tra virgolette. Anche qui la notizia del Consiglio regionale che approva in seconda lettura la modifica dello statuto, presentata dalla Presidente Roberti, dunque il secondo sottosegretario. E un focus sulla festa di Sant'Anna a Ielzi, l'attesa e partecipata festa di Sant'Anna, si parla anche in questo caso di Sant'Anna, che è la patrona di Pozzilli. Da futuro Molise a Molise Network, ecco qui, crisi idrica, il sindaco Ricci dispone le chiusure notturne. Andiamo a vedere altre notizie, proprio da Venafro, Emergenza Acqua, una delegazione scrive al sindaco per chiedere un incontro urgente e risolutivo. Kerl Giver, parla l'assessore Cefaratti, le famiglie degli assistiti svolgono un ruolo fondamentale. Restiamo sempre su Molise Network, ad Agnone apre lo sportello fisico da remoto della Camera di Commercio del Molise. Anche qui, sull'ASREM, liste di attesa, continua lo smaltimento con chiamate ai pazienti prenotati. Poi vedete ancora, ci sono diverse notizie, si parla anche della crisi idrica, vertice in prefettura di Sernia, il prefetto Tancredi invita tutti ad un uso responsabile dell'acqua. Dal web alla carta stampata, iniziamo con primo piano, ok a due sottosegretari, ma le opposizioni sono furibonde. Approvate in seconda lettura le modifiche allo statuto. Di Baggio, vicino alla nomina. Romano al vetriolo, livello da bar dello sport. PD e 5 Stelle rincarano la dose. Intanto Roberti dice che è una figura utile alla funzionalità della regione. Più in basso, stop rifiuti dall'Abruzzo. Il Tar salva la stagione a Montenero. respinto il ricorso del gestore e del depuratore contro il provvedimento della regione che limita il conferimento. Contucci, sindaco, sarà un caso, ma le esalazioni sgradevoli sono sparite. A fondo pagina si parla di una fregatura, la definisce primo piano, la zona economica del sud, taglio al credito d'imposta dal 35 al 17%, cioè l'intervento da parte della consigliera regionale Fanelli, dice è che sola. Nel mirino, dunque, della consigliera PD, la filiera Meloni, Fitto, Roberti. Di spalla, garante della persona, maggioranza divisa, altra fumata nera, si va a dare la riunione ieri in consiglio regionale, questo argomento non è stato trattato. Poi le liste di attesa, chi non risponde al call center riceverà un sms. Andiamo a Termoli, spiagge a misura di bimbi, il sindaco Balicce consegna ai Lidi le bandiere verdi. Alcuni richiami, notizia che riguarda i Serni, la questione è movida, il sindaco rivede l'ordinanza e replica a Mancini. La polemica non aiuta, è stato detto. La Sepino, San Lorenzo, tornano le narrazioni Servillo, Germano e Mercadini al parco archeologico. Gabriele Salemme firma la rubrica Il Punto, fratelli di intenti, sentimento popolare. Notizie che riguardano lo sport sotto la testata, si parla del campo basso, qui fagioli, ci voglio fare tanti gol, intanto alle 20, amichevole il col Dan Dagenham e Redbridge. Serie D, partito il ritiro del Termoli, l'Isernia ingaggia intanto il portiere Caroti, un focus anche sulla pallavolo, altro acquisto della Spike Campobasso, ecco il centrale Orazzi. E da primo piano, adesso i quotidiani nazionali, qui si parla molto del monito del Presidente della Repubblica, Mattarella, andiamo con ordine, iniziamo con il Corriere della Sera, richiamo del Colle e i versivi, gli atti contro la stampa, questo è il discorso di Mattarella alla cerimonia della consegna del ventaio classico, appuntamento con la stampa. E al Parlamento, dice, va eletto il giudice della consulta. Agli esteri Biden, ora resto al comando, il ritiro per il bene dell'America. intanto Netanyahu parla al congresso americano, ci sono delle proteste in piazza e diversi arresti. La fotonotizia, la drittezza di Sinner, salto i giochi, problemi dunque di salute per il campione. Andiamo a vedere Repubblica, ecco qui in alto, eversivo, attaccare l'informazione. Mattarella ha intervenuto su Casa Pound, scrive la Repubblica, per il Presidente dunque informare è documentare senza sconti, basta intimidazioni. Le altre notizie, il Sud lasciato a secco, la grande sete in Italia, nell'anno più caldo di sempre, scoppia l'emergenza acqua. In Sicilia, i serbatoi sono vuoti e si va verso il razionamento. Arriva l'allarme da parte di Coldiretti, la siccità è già costata al mezzogiorno, oltre 4 miliardi di euro, persi 33 mila posti di lavoro. E ancora nel sommario, leggiamo, le liste di attesa diventano legge, Sline contro il governo dice, privatizzate la sanità. Questo dunque è su Repubblica. Passiamo adesso al quotidiano torinese, la stampa. Anche qui l'apertura è sul monitor del Capo dello Stato. Eversivi gli atti contro la stampa. Richiamo di Mattarella dopo l'aggressione di Torino. Giornalismo è documentare senza sconti. Il Presidente alla cerimonia del ventaglio sprona il governo su consulta e sovraffollamento nei penitenziari. Di spalla la geopolitica. Netanyahu negli Stati Uniti spacca il paese. Proteste al congresso dove Harris diserta. Anche qui c'è quello che la stampa definisce le ombre di Sinner. Una tonzillite, ferma il numero uno del tennis. Non sarà ai giochi olimpici. Continuiamo con la rassegna stampa. Uno sguardo alla notizia dell'economia e finanza sul sole 24 ore. Da nord a sud, caos, liste di attesa. Oltre un anno per esami e visite. Solo metà delle regioni è in regola. La riforma diventa legge. Parla anche la Premier Meloni. Dice passo avanti, ma c'è ancora molto da fare. Dagli esteri, Netanyahu al congresso americano, proteste e cento sedie vuote. Stati Uniti e Israele restino uniti. Questo è l'appello che è stato lanciato. Il Fatto Quotidiano. Pusher, ladri e tangentari. Tutti fuori dopo 60 giorni. Il Fatto scrive quello che è stato definito il Lodo Toti. Cioè, Forza Italia vuole un tetto alla custodia cautelare. Mai più casi Liguria. Sempre più impunità, scrive il Quotidiano di Travaglio. Carcere e domiciliari, non oltre i due mesi. Così i nuovi reati saranno assicurati. Dagli esteri, Stati Uniti, Bibi, che è Netanyahu, contestato, chiede altre bombe. Dunque, abbiamo visto che ci sono stati anche degli arresti da parte di alcuni manifestanti. Continuiamo la nostra segna stampa dando uno sguardo al Libero. La patacca europea, il trucchetto, vediamo un po' di capire. Pubblicato il dossier europeo che bastona l'Italia su riforme e informazione. Le fonti dello studio, ONG, Toghe Rosse e Lanac in mano all'opposizione. Poi ancora leggiamo, il PD rifiuta di scusarsi col consigliere leghista aggredito da uno dei loro. Osa criticare Kamala Harris, Rampini finisce alla gogna. Pioggia di insulti sul giornalista dall'elite anti-Trump. Più in basso, vincono il PM, Toti pensa alle dimissioni. Il governatore della Liguria verso il passo indietro, contrari i partiti che vorrebbero allontanare. Il voto. Questo dunque su Libero, mentre il Tempo titola così sfascisti a spese nostre. Altro che studenti pacifisti, danni per 600 mila euro dalla guerriglia degli Atenei e pagano gli italiani. Poi un focus sull'Europa, la solita Ursula, l'Unione Europea di PD e Verdi prova a bloccare le riforme di Meloni. e ancora vediamo referendum rosso, 5 regioni contro l'autonomia. Abbiamo visto dunque che c'è questa proposta da parte di 5 regioni. Questa sul tempo vediamo invece il messaggero, lista di attesa, taglio per legge, sanità, dunque approvata la riforma, straordinari detassati e studi aperti di sera per smaltire l'arretrato. c'è anche un'intervista al ministro della salute Schillaci che dice compensi aumentati ora i sanitari accettino in arrivo anche alcuni infermieri dall'India. Di taglio centrale piazze di spaccio in trasferta al mare per seguire i clienti l'antimafia svela i movimenti dei narcos da Torbella Monaca a Ostia alle zone di vacanza. Dunque avvenire un mondo infame il rapporto dell'ONU mette in evidenza conflitti e riscaldamento globale come cause dello stallo. La FAO dice 733 milioni una persona su 11 senza cibo a sufficienza da tre anni zero progressi. Il G20 a Rio lancia un'alleanza globale contro la povertà ma è diviso sulla tassa ai ricchi. Anche l'avvenire cita è una frase del Presidente della Repubblica Mattarella atti eversivi contro la stampa forte monito di Mattarella intanto l'Unione Europea richiama il governo su riforme e libertà di informazione. Abbiamo visto anche il avvenire passiamo al manifesto la sventagliata titolo ad effetto come sempre per il quotidiano si parla della cerimonia del ventaglio dunque edice alla cerimonia del ventaglio Sergio Mattarella alza il tiro e prende di mira la destra ogni atto contro la libertà di informazione è un atto eversivo poi bacchetta sulle carceri sulle nomine alla Corte Costituzionale sull'odio in politica il governo reagisce con il silenzio il rapporto della Commissione europea intanto sullo Stato di diritto l'Italia è stata bocciata questo sul manifesto la verità invece punta su questo argomento la trappola dei visti per immigrati l'altro canale attraverso il quale arrivano gli irregolari come pochi altri paesi europei Roma ha appaltato la gestione dei permessi se ne occupa un'agenzia svizzera che è sospettata di favorire il mercato nero Polonia e Gran Bretagna ha le prese con centinaia di migliaia di ingressi venduti illegalmente e anche il ministro Tajani ha avviato indagini e fatto rotolare teste per scandali nelle ambasciate eppure ci si continua a servire dei privati dunque questo è l'argomento scelto per l'apertura di oggi sulla verità passiamo invece adesso al secolo d'Italia ci occupa gli esteri e la gauche antisemita macchia le olimpiadi l'editoriale a firma di Stefania Campitelli a fondo pagina invece commissioni europee la destra cresce e la maggioranza Ursula evapora si parla anche di Saviano sul deglato di Gomorra tra business da oltre 18 anni scrive il secolo uno sguardo al mondo dello sport sulla gazzetta giochi proibiti ed è riferimento a Sinner che rinuncia il numero uno del tennis si arrende alla tonsillite sconvolgente dice i medici mi hanno fermato e anche riferimento al calciomercato Juve di lusso in partenza anche Wisen ci sono i soldi per realizzare due super colpi chiesti da Motta questi dunque alcuni degli argomenti ma un focus principale sulle olimpiadi che ci saranno a Parigi bene come sempre con la gazzetta dello sport termina l'appuntamento del mattino appuntamento con la nostra informazione che torna alle 14 con la seconda edizione della telegiornale grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata arrivederci